Se i burattini vogliamo ascoltare, insieme li dobbiamo chiamare. Allora, tre criteri. Burattini. Bene? Uno, due, tre. Burattini, 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 burattini. Buongiorno bambini, ciao! Io sono Ricardino. Ah, tu sei Ricardino. Eh sì, sono Ricardino. Il bambino Birichino? Ma, sono Birichino, perché faccio arrabbiare sempre la mia sorellina. Oh, ma perché la fai arrabbiare? La faccio sempre arrabbiare, perché gli scherzi mi diverto a fare e la faccio spaventare. Ora, quasi, quasi, la vado a cercare, così un nuovo scherzetto posso fare. Ciao bambini, io sono Franceschina, la sorellina di Ricardino. Non ce la faccio più, mi fa sempre spaventare. Voi, bambini, vi dovete aiutare. Non l'avete mica visto passare di qua per caso? Sì! Sì? Aiuto, aiuto! Ma dov'è, dov'è? Sicuramente mi starà preparato un altro scherzetto. Bambini, mi dovete aiutare. Mi è venuto un'idea. Ora lo scherzetto glielo facciamo noi. Dimacchio, chi di voi mi vuole aiutare? Sì! Va bene, ti aiutiamo noi. Ma cosa vuoi fare al tuo fratellino? Un bello scherzetto. Gli dobbiamo fare e tanto, tanto, tanto lo dobbiamo far spaventare. Quando lo vediamo arrivare, io mi vado a nascondere. e voi vi nasconderete con me e tutti insieme faremo il verso del leone. Avete capito, bambini? Sì! Va bene. Allora adesso facciamo una prova. Facciamo tutti insieme il verso del leone. Allora adesso facciamo tutti insieme il verso del leone. Bene, ora lo ascoltiamo e quando lo sentiamo arrivare ci nascondiamo e tutti insieme rifacciamo il verso del leone. Va bene, bambini? Sì! Ecco, 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 guardate, sta arrivando. Mi raccomando, nascondetevi e poi urlate più forte possibile. Ma dove siete? Dove siete finiti tutti? Ma chi sei? Io non ho paura, eh, però lasciami stare, meglio che vado a casa a cercare la mia sollevina. Bambini, non ce l'abbiamo fatta, eh? Non siete per niente spaventato. Idea, perché non ti travesti da diavoletto e gli dici qualcosa che lo faccia spaventare? Bambini, secondo voi così si spaventa? Sì! Allora facciamo così, io mi travesto da diavoletto e voi mi dovete aiutare. Sì! Va bene? Sì! Allora, quando arriva ed io esco vestita da diavoletto, voi dovete stare immobili. non vi dovete muovere, dovete far finta di essere bloccati, va bene? Sì! Bloccati, proviamo? Allora, facciamo una prova. Ma mi raccomando, eh, state attenti e non muovetevi. Se no lui non ci crede e non si spaventa. Dai, dai, al mio tre tutti fermi. Uno, due, tre. Siete stati davvero bravi. Io ora vado a prepararli. Ma mi raccomando, eh, quando arriva Riccardino, tutti fermi e zitti. Zittino. D'accordo? Sì! Ma cosa gli è successo? Ma non si muove lì su? Ma perché state fermi? Perché? Ma perché state fermi e diventare così? Ma tu? Ma chi sei? Ma chi lo sei? Sono io, Gigetto, il diavoletto. Aiuto, 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 aiuto. Ma cosa vuoi da te? Che voglio da te? Voglio farti diventare come loro. E perché? Ma se io sono un bravo bambino? Eh? Un bravo bambino? E allora perché fai sempre arrabbiare la tua sorellina? Ma non è vero! Non è vero! Io non faccio mai arrabbiare la mia sorellina! È vero! Io lo so! Anche loro lo facevano. E vedi ora? Non possono più muoversi. No, 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 no. Ti prego, Gigetto, siamo letto. Non lo farò più, mai più, veramente, eh! Ma veramente! Va bene, ma devi fare una cosa. Io ora faccio risvegliare tutti gli altri bambini. E tu, insieme a loro, dovrai dire, anche se è più piccolino, non dobbiamo mai dare arrabbiare il nostro fratellino. Va bene, Gigetto, diamo letto! Ho capito! Gigetto, ho capito! Va bene! Va bene! Svegliatevi, bambini, e tutti insieme, con ricordino, dovete dire, anche se è più piccolino, non dobbiamo mai fare arrabbiare il nostro fratellino. Allora, insieme, anche se è più piccolino, non dobbiamo mai fare arrabbiare il nostro fratellino. No, non ho sentito bene, più forte! Allora, insieme, anche se è più piccolino, non dobbiamo mai fare arrabbiare il nostro fratellino. Ora va meglio, ed io vado, ma mi raccomando, bambini, e soprattutto a te, Riccardino, che se continui a fare ancora il mio rinchino, io ritorno. Grazie, Gigetto, diamo letto! Grazie, non preoccuparti, e non farò mai più uno scherzetto! E meno male! Grazie, bambini, eh! Grazie, vi avete aiutato! Io adesso vado a cercare Franceschina, la mia sorellina, per giocare un po'! Grazie, bambini, ce l'abbiamo fatta! Se mi servirà di nuovo un aiuto, verrò a trovarvi, va bene? Sì! Grazie, grazie ancora! Ciao, 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 bambini! Ciao, 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 ciao! Allora, bambini, vi è piaciuta questa storia? Sì! Cosa abbiamo imparato da questa storia? A me fa un lavoro un altro! Non dobbiamo mai fare arrabbiare nessuno! Tra tutto? Il nostro fratellino! Ma che fratellone, eh! Allora, bambini, vi è piaciuta questa storia? Allora, bambini, vi è piaciuta questa storia? Grazie a tutti! Allora, bambini, vi è piaciuta questa storia? Allora, bambini, vi è piaciuta questa storia? Sì! Sì! Sì!